oggi è il momento di semi dal mondo in questo video vi mostrerò come seminare il peperoncino seguitemi e lasciate un like e iscrivetevi al canale se non siete iscritti a più tardi ecco abbiamo prendiamo i nostri peperoncini allora con le forbici andremo a tagliare la punta o anche la parte di dietro basta che poi usciranno i semi ecco Poi prepariamo il mostro del menzalio, che potrebbero essere anche dei bicchierini per l'acqua, così non si allagherà l'interno. Poi prendiamo la terra. A presto. Togliamo i pezzetti di legno Una volta fatti, abbiamo fatto schieneggiare i cibuchi Una volta fatti, abbiamo fatto schieneggiare i cibuchi Una volta fatti, abbiamo fatto schieneggiare i cibuchi Una volta fatti, andiamo fuori terra e andiamo a tapare Abbiamo fatto schieneggiare i cibuchi Una volta fatti, abbiamo fatto schieneggiare i cibuchi Per rinaffiare io ho usato una bottiglia Basta puncare con un cacciavite, o anche con un pionino, il tappo Abbiamo fatto schieneggiare i cibuchi Una volta terminato, lasciamo i cibuchi in una zona soleggiata E aspettiamo che cresce Una volta che sarà cresciuto Da che sarà cresciuta le nostre piantine Diventeranno come questa pianta di peperoncini Piene di peperoncini e bella colta Grazie 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 Grazie